Non me l'aspettavo, ci speravo, però con lì davanti è difficile, però sì, mi ha fatto molto piacere nel giro di quest'anno e sono molto contenta che iniziate vinto, soprattutto perché è importante farlo anche adesso. Benissimo, anche con Paola ci troviamo, è molto brava, non si fa problemi a dirmi se l'alto-basso però la mette sempre su e quindi questo è importante e con il resto delle ragazze anche, sempre benissimo, davvero. Hai fatto anche un muro, abbiamo visto che hai fatto un sorrisone. Sì, perché non è che sia proprio il mio fondamentale migliore, quindi no, no, mi è andata bene questo oggi.